Abbiamo eseguito tanti passaggi, ci siamo confrontati, abbiamo eseguito anche i passaggi parlamentari ed abbiamo trovato questa intesa che oggi sottoscriviamo di 6 miliardi e 800 milioni. Detratto il miliardo e 300 che abbiamo destinato al ponte sullo stretto che abbiamo fortemente voluto, arriviamo ad un'intesa forte, un'intesa che guarda allo sviluppo, un'intesa che guarda alle imprese in particolar modo, alla competitività delle imprese. Abbiamo stanziato 480 milioni, sono previste dal fondo di coesione, 480 milioni per lo sviluppo, per le attività produttive e all'interno una misura di 100 milioni che guarda alla rielaborazione, al miglioramento delle aree industriali, quelle aree industriali come quella di Catania che per esempio soffrono in questo momento un momento di sottosviluppo, sul quale daremo una particolare attenzione.